Oggi la perfezione si libera dalla freddezza dei suoi calcoli e accende nuove passioni. Fascinazione, amore per il dettaglio, potenza, forza estetica e armonia. Quando la qualità diventa bellezza, l'eleganza ritrova la sua autentica espressione. Nuova lancia tema, la qualità si veste di bellezza. Scopri la sabato 5 e domenica 6.